Ciao, grazie a tutti, sono Giusy Campo e abito nel quinto municipio. Ho 55 anni e per lavoro mi occupo di editoria universitaria. Dal 2007 sono entrata nel movimento perché a un certo punto ho visto un banchetto con una coda pazzesca di gente che firmava. E ho detto, ma per che cosa state firmando? E così ho preso coscienza del fatto che c'era una buona parte del nostro Parlamento che era fatto di persone che aveva procedimenti giudiziali in corso o addirittura con danne. E da lì piano piano ho conosciuto delle persone, mi sono interessata di ambiente, di cultura, di istruzione, di degrescita in nuove economie, mi sono occupata di temi che mi appassionano e che sento importanti per il futuro. La dimensione che piace di più a me nella politica è quella che oggi si è completamente persa perché nella politica è stata persa l'onestà, il senso della cosa pubblica, ma è stata persa anche un'altra cosa importante, la progettualità. Cioè questi politici degli ultimi vent'anni in modo particolare non hanno avuto nessun progetto per noi cittadini e per la nazione e per l'Europa ancora meno. Hanno avuto un unico progetto, mantenersi sulla loro sedia, mantenere i loro privilegi e ovviamente farsi votare dalle persone che potevano garantire la loro permanenza sulla sedia. Ma tutto questo che ha a che fare con l'Europa? E quindi io chiedo, ma chi è contro l'Europa? Siamo noi gli anti-europeisti o sono loro che in vent'anni non sono stati capaci di utilizzare l'Europa per quello che dovrebbe essere un'opportunità per far prosperare e progredire dei popoli in fratellanza e in comunanza? Chi è contro l'Europa? Noi o loro? Io non direi che noi siamo anti-europeisti, i veri anti-europeisti sono loro. E negli ultimi vent'anni si è visto molto bene come è stata gestita l'Europa. Ecco perché noi nei sette punti che abbiamo per l'Europa abbiamo messo le condizioni per poter ripartire che sono quelle ovviamente dell'abolizione del fiscal compact e del pareggio di bilancio e degli euro bond. Ma abbiamo anche messo due punti che sono molto importanti perché sono progettuali. Cioè noi vogliamo riuscire a far capire ai cittadini e vogliamo fare con loro un progetto per il futuro. Cioè vogliamo sapere dove vogliamo arrivare e questo è il punto debole. Dove vogliamo arrivare? Ecco che allora noi abbiamo pensato a proporre due punti fondamentali. Uno è quello dell'agricoltura perché ci siamo resi conto studiando la politica agricola comunitaria che negli ultimi dieci anni in particolare le nostre imprese agricole sono state disincentivate a continuare a produrre e a coltivare la terra. Questo perché? Perché c'è stata una pressione da parte di mercati mondiali finanziari per andare su un mercato globale. Un mercato globale che significa che noi oggi importiamo il grano, l'olio d'oliva e i pomodori ad esempio. Cioè significa una cosa precisa. Noi rischiamo di non avere più l'autosufficienza alimentare. E questa è una cosa gravissima, importante per il futuro. Perché rischiamo di trovarci come ad Atene senza la possibilità di comprarci da mangiare perché dipendiamo da scorte che arrivano dall'estero e quindi che sono sovraccaricate del prezzo del petrolio che sta aumentando sempre di più e che addirittura arriva da paesi che possono essere anche in guerra o in conflitto. Ecco perché questa Europa ingegnerizzata in questo modo a noi non sembra un'Europa come quella che avevano pensato i fondatori negli anni 50 dopo la seconda guerra mondiale quando arrivavano dalla fame e dalla distruzione. Non è questa quell'Europa che loro avevano pensato. Quindi noi vogliamo tornare all'agricoltura per garantire la nostra alimentazione in primis e la nostra sicurezza. Quindi prodotti che non siano OGM, che non siano con pesticidi e che siano coltivati per come li abbiamo sempre coltivati e che ci invidiano in tutto il mondo. In tutto il mondo ce li invidiano e ce li imitano anche. Quindi noi torniamo ai nostri prodotti e dopodiché l'altra cosa che dobbiamo fare, che sta nei sette punti, è l'alleanza fra i paesi euro-mediterranei. E anche questo ha un senso. Questo è un progetto che noi vorremmo fare con voi cittadini perché in tutti questi 15 anni la Germania ha condotto un suo progetto e lo ha portato a buon fine. Ed è quello di creare un polo di sviluppo sotto la sua personale influenza e controllo nell'Europa dell'Est e particolarmente in Polonia. Infatti negli ultimi 15 anni il 70% dei fondi strutturali sono stati drenati verso la Polonia. E oggi noi abbiamo un paese che è emerso, che è industrializzato e che però è fuori dall'euro e quindi è molto competitivo. Però questa non è competizione, questa è concorrenza sleale. Perché noi non possiamo giocare a ribasso e farci concorrenza fra paesi europei. Noi dovremmo tutti insieme fare concorrenza alla Cina o all'India o agli Stati Uniti ma non farci concorrenza sleale fra noi. Questa non è Unione Europea, questa è la mattanza europea. E noi non ci stiamo a questo ribasso, noi non vogliamo andare a ribasso. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo creare un polo mediterraneo fra Portogallo, Spagna, Italia e Grecia che sono quattro paesi che hanno economie molto simili, storie simili, culture simili e anche possibilità di progredire dal punto di vista agricolo, turistico, ecologico e di energie rinnovabili molto simili che possono quindi fare sinergia e creare quindi un riequilibrio con i paesi dell'est che stanno andando avanti come delle tigri ma facendoci concorrenza sleale. Questo è il senso di questi due punti che volevo spiegarvi perché il senso di questi due punti è che noi dobbiamo andare lì anche per pensare all'Europa del futuro oltre che per mettere a posto quello che è successo in tutti questi anni e quello che è successo è che noi abbiamo perso credibilità noi abbiamo avuto lì della gente che ha scaldato la sedia e che ci ha fatto fare delle figuracce pazzesche e noi abbiamo perso prestigio e credibilità sul piano internazionale oltre che internamente perché è sotto gli occhi di tutti quello che stanno facendo quindi noi è importante che andiamo tutti a votare per una nuova Europa per un nuovo rinascimento mediterraneo e il 25 maggio vinciamo? Noi! Grazie! Ciao!